Oh, questo libro mi fa troppo ridere! Ehi, c'è Humpty! No, aspetta, ursetto! Ho un'idea molto, molto divertente! Però devo togliermi questo! Perché? Così Humpty non mi riconoscerà! Non ci arrivo! Oh! Cosa? Oh! Che succede? Oh, gli occhiali no! Che mi sta succedendo? C'è qualcuno che sei? Beh, hai visto? Sì, però hai terrorizzato Humpty e non è stato carino! Poi gli spiegherò cosa è successo! Lo troverà divertente! Non credo, riccioli d'oro! Ehi, orsetto! Oggi giochiamo a palloranuncolo, eh? Ricordalo anche a riccioli d'oro quando la vedi! Jack, ciao! Beh, in realtà riccioli d'oro è qui! Oh, che bello! Non mi vedrà nessuno! Ti rendi conto? Farò gol a Rappica! Non mi sembra molto corretto! No, sarà fantastico! Vieni! Io scelgo Jack! Io scelgo Jill! E allora? Diamo inizio alla partita! Senza di me? Riccioli d'oro! Sei... Sei tu? Sì! È diventata invisibile! E come ha fatto? È caduta su delle polveri magiche di Ginger! Un incidente imprevisto? Ma fantastico! Con che squadra gioco? Ehi! L'invisibile riccioli d'oro ha la palla! Ora tira! E fa gol! Ok! Ora la palla l'abbiamo noi! Ehi! Non è giusto! Oh, piano! Riccioli d'oro! Oh, Catterini! Un altro grande gol dell'invisibile riccioli d'oro! È veramente troppo facile! Ma non è per niente corretto! Io non voglio più giocare così! Sì, nemmeno io! Sì, ciao! Io me ne vado! No, aspettate! Stavo solo divertendo un po'! Ti divertivi solo tu, però! A nessun altro piaceva! Vedi? È che è talmente bello essere invisibili! Non capita tutti i giorni, sai? Ma cosa diresti se qualcuno approfittando del fatto di essere invisibile ti ingannasse? Credo che non mi piacerebbe! È bene che vada subito a scusarmi con tutti! Non sarebbe meglio che prima tu tornassi visibile? Hai ragione! E allora andiamo a sentire se Ginger ha trovato una soluzione! Aspettami! In effetti io adoro i denti di leone! Ciao, Ginger! Hai qualche bella novità per me? Ho esaminato a fondo tutti i miei libri, ma non ho trovato niente che faccia al caso tuo! E se non trovi una soluzione? Io che cosa faccio? Beh, guarda il lato positivo della cosa! Nessuno si accorgerà se hai i capelli in disordine! Oh! Dove vai? Ma... No, aspetta! Ricciolidoro! Come stai? Non mi diverto più a essere invisibile! Ce l'hanno tutti con me e neanche il mio migliore amico può vedermi! Ehi! Fino a quando avrai in testa il tuo fiocco, saprò sempre dove sei! Il mio fiocco! Oh! Un colpo più forte di vento e di me non c'è più traccia! Dai, non preoccuparti! Lo prendo io! Sai, forse dovrei provare a mettermi un altro vestito! Ricciolidoro! Ehi! Stai tornando visibile! Mi vedi? Come hai fatto? È il potere dell'acqua! L'acqua! Deve essere questo l'antidoto che Ginger sta cercando! Andiamo! Corriamo a dirglielo! Ricciolidoro e orsetto a Disney Junior Grazie a tutti!